Buona a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 Vi porto questo video praticamente a freddo Perché a caldo sarebbe stato veramente un'incazzatura totale Voglio evitare di incazzarmi nei video, almeno per la Juve quest'anno Perché non se ne può più L'anno dove ho fatto i pizzochi è stato il 18-19 Pensate che quello è stato anche l'anno migliore Da quando sono su Youtube l'annata migliore è probabilmente stata quella Poi se ragazzi guardate gli ultimi 4 stagioni La Juve rispetto alla finale, quella di Cardiff è sempre calata 17-18 in realtà no, però 18-19 arriva Ronaldo Direi che la dobbiamo fare allo step in avanti E in realtà rispetto all'anno prima si è vista qualcosa in meno In Champions siamo arrivati in Coppa Italia siamo ucciti subito In Champions pure siamo ucciti subito Quindi cioè io non lo so Ci sono fatti molti meno col fatti Con Sarri abbiamo vinto solo un trofeo Con Pirlo invece rischiamo non solo di non vincere il campionato Ma anche di non andare in Champions Ma rischiamo veramente grossi ragazzi Io non sto qui a dirvi le solite cose Cioè ragazzi veramente Quando guardate Manu Sports e la Juve Andate da Luca Toselli Andate da Davon23 che sono più bravi di me A parlare con lucidità Con estremo lucidità Riescono a stare più aggrappati alla squadra di me Siamo più bravi ragazzi E basta Pirlo io vi ripeto sempre le stesse cose Perché Pirlo ragazzi fa troppi errori Se vediamo la partita di domenica Pirlo fa troppi errori Danilo in panchina che è il migliore della stagione Chiesa messo a sinistra Lui che all'andata ha annientato il Milan a destra E che ogni volta che viene schierato a destra Fa meglio che a sinistra Viene schierato a sinistra perché a destra Pirlo dice che è incompatibile con presenza con Quadrato Poi non lo so Saranno fisse sue Quest'incompatibilità chiesa a Quadrato Ma se Quadrato fa il terzino Fagli fa il terzino E' inutile che poi trasformi sto modulo in un 3-5-2 E ti inventi chiesa esterno di sinistra Quando alla fine ad attaccare c'è anche Alexandro Tanto quanto Quadrato Quadrato semplicemente fa più percussioni E di Alexandro è più difensivo di Quadrato Quindi riesce magari a coprire meglio i buchi Ma a questo punto Fammi un cazzo di 4-3-3 con Ronaldo Che è la sinistra che si accentra Non lo so Fammi un qualcosa tu Inventatelo tu Perché io non me lo riesco a inventare Sinceramente All'andata hai annientato il Milan con Chiesa Di Bala a Ronaldo E vabbè Poi a punto di Di Bala L'hai messo in panchina Chiesa l'hai messo sull'altra fascia Danilo l'hai messo in panchina Lui che è il migliore della stagione Bentancur Per la perennemesima volta Durante la difesa E lui che perde 3.000 palloni Cioè ragazzi Veramente non Non se ne può più Non hai mai provato McKennie Davanti alla difesa Perché sei un testa di cazzo Perché quello sei Un testa di cazzo Rabiola hai provato una volta È andato bene Però ti va sempre meglio Bentancur di Rabiola Allora Di che cazzo stiamo parlando Cioè È incredibile Oh Milan forse è anche troppo esaltato Ha vinto 3-0 Ha meritato sicuramente La vittoria Perché ha giocato Da più squadra di noi Ma se andiamo a vedere Sotto il punto di vista tecnico Anche il Milan Questa partita Sbaglia tanti passaggi Offre tante occasioni Da cora alla Juve Che la Juve Non sfrutta Offre degli spazi a Ronaldo Che non vanno Assolutamente concessi Quindi insomma Il Milan Forse è un po' troppo esaltato Perché il Milan Se non è per quella mezza Va per la di Cezni E oltre che per l'attaccimento Della Juve Questa partita non la vince Il Milan sicuramente Merita di andare in Champions Perché ha fatto un girone D'andata veramente Della Madonna Però Non è il Milan Il migliore della stagione Ragazzi eh Se la Juve Si impegnava un po' di più Sto Milan Lo batteva facilmente Il Milan semplicemente Ha giocato più squadra Della Juve Ma perché il Milan È questo ragazzi eh Gioca con Saleme Che è Arbena Ser Che comunque Non sono fenomeni Non sono fenomeni Ragazzi Calabria Cioè ragazzi Il Milan sta facendo Un miracolo per la Rosalia Il Milan quest'anno Si sta comportando Da squadra E bisogna solamente Prendere d'esempio Bisogna solamente Prendere esempio Da questo Milan eh Cioè voglio dire Poi Pirlo I giovani Do cazzo lì Cioè Fagioli Quando ha giocato Ha giocato bene Disperso Fra botta Disperso Félix Correa Ha giocato dieci minuti Bene Non lo ripropone Magari Per devi tre a zero Lo rischiavi no Non lo so raga Raffia Ti decide la Coppa Italia Disperso All'estero Già avrebbe fatto Venti presenze Plus Valenza E ciao Per Raffia Soprattutto quando è una rosa Numericamente Perché magari a volte Si diceva Perché devo mettere Forse è il giovane C'ho Chiesa C'ho Kuluseschi E no ma c'è stato un punto Della stagione Dove tu non avevi un cazzo Di nessuno E i giovani Non li mettevi Cioè io veramente trovo Stupida questa mossa di Pirlo Non la capisco veramente Non la capisco Si metteva all'inizio A mettere un sacco di giovani Poi Non l'ha voluto fare più Ha detto Ho fatto tesoro dei miei errori Perché mettere i giovani È stato un errore Forse col crotone Per il resto no Perché fra botta Qualquisina di buono L'ha fatta vedere Già che l'hai messa Terzino e sinistro E terzino e sinistro C'è Alexandro Che ti fa una partita buona E dieci male Quindi Poi Pirlo Parla sempre di entusiasmo Lui che l'entusiasmo Non lo sa dare Quindi cioè raga Io vi dico sempre Le stesse cose Mi sono veramente rotto Cerchiamo di salvare Questa stagione Di andare in Champions Anche se ormai È praticamente impossibile Dobbiamo già progettare Una Juve in Europa League Cioè fa strano Solamente pensarlo ragazzi Una Juve in Europa League Con Sarri Aveva una squadra Molto peggio di questa Sarri Iper criticato E poi Non riusciamo ad andare In Champions Cioè Sarri Alla lunga Sarri Ha sempre Avuto Ragione Sempre raga Sempre Basta Veramente raga Non voglio neanche Chiudere il video Come lo faccio Perché veramente Non ce la faccio più Non ce la faccio più Complimenti all'Inter Per lo scudetto Al Minol Per la vittoria Dall'altra sera E' un'altra Traga E' un'altra